Un caro saluto a tutti e benvenuti a Milan-Fiorentina. E allora avanza la squadra viola, Simeone solo davanti a Donnarumma. Gol della Fiorentina. Gol della Fiorentina. Vediamo Cialanoglu, il tiro. Gol! Cialanoglu! Il turco 10 nostro! Cialanoglu, il tiro a Crono. Gol! Il tuffo di testa a Cutrone! Il gol di Cutrone! Il gol di Cutrone! Cialanoglu la mette in mezzo, Cutrone di testa, la grande parata, Ghalinic, gol! Nicola! Nicola! Cialanoglu, bella palla, Cutrovic, Cutrovic, gol! Ancora Cutrone! Ancora Cutrone! Ancora l'assist di Cialanoglu! Attenzione Jack, 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 fa una grande azione Jack. Che gol! Ma che gol! Ma che gol! Bravi ragazzi, bravi. Abbiamo chiuso bene la stagione. Ciao a tutti, arrivederci, alla prossima stagione. Ciao a tutti!